Ciao, sono Camilla e sono una realizzatrice di contenuti. I contenuti che deciderai tu, proponendoci le tue idee e partecipando ai nostri sondaggi. Che cosa vorresti vedere stasera? Noi ti diamo l'opportunità di decidere. New Signal è il nuovo canale web tv che sfrutta i social e il digitale terrestre per interagire con te. Metti mi piace alla pagina, inizia a seguirci sui nostri social e condividi questo video per iniziare finalmente a diventare l'ideatore del tuo intrattenimento. Tu scegli e noi creiamo.